Hai presente l'icona per salvare i file? Non è altro che la rappresentazione artistica di un floppy disk. Un floppy è un aggeggio di plastica. All'interno dell'involucro plastico c'è un disco magnetico attaccato ad un perno di metallo. Quando inserivi il floppy nel suo drive, ovvero nel suo lettore, un braccio meccanico lo faceva ruotare e poi la testina leggeva i dati memorizzati su di esso. Quindi un floppy non è altro che un supporto, ovvero una memoria. I floppy disk sono diventati obsoleti per la loro capacità, sono stati soppiantati dal cd, poi in seguito dai dvd. Ormai anche cd e dvd sono da considerarsi più o meno obsoleti. Questo perché con l'avvento di internet a banda larga nessuno compra più i software in edicola oppure nei negozi specializzati. Ormai questi si scaricano da in seguito dai internetti. Musica